Ciao a tutti ragazzi sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video della fantastica ModCraft E' arrivato il grande giorno Questo video lo dovete distruggere con i mi piace e con i commenti Voglio che arrivi primo in tendenza Dopo mesi e mesi di sudore Finalmente oggi riusciremo a craftare l'armatura dell'infinito completa L'ultimo pezzo che manca ormai praticamente da tantissimo tempo Ovvero il corpetto dell'infinito Ho tutti quanti i materiali O quasi cioè nel senso dobbiamo craftarne ancora qualcuno ma non importa Siamo praticamente lì lì E in questo episodio riusciremo a completarla Io ragazzi voglio che questo video spacchi tutto quanto Dobbiamo rompere l'internet Dobbiamo arrivare prima in tendenza Dobbiamo fare centomila commenti Centomila mi piace E quindi vi serve tutto il vostro supporto Se non avete ancora lasciato mi piace fatelo adesso Se non avete ancora commentato commentate dicendo Non lo so Wow fantastico finalmente Non vedevo l'ora finalmente l'armatura completa E infatti ho piazzato un ender chest proprio qua Abbiamo tutte le singolarità che ci servono O almeno spero Abbiamo 17 infinity catalyst Le rotelle dell'infinito E ben 22 lingotti dell'infinito Per craftare questa armatura Ovvero l'ultimo pezzo Ce ne servono 24 Quindi riusciremo sicuramente a fare gli ultimi due lingotti E tra l'altro sono curioso di vedere Ah ok Siamo a 64 In ogni singolo collettore di neutroni Abbiamo 64 neutroni Pile di neutroni Ok 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 Allora cerchiamo di prenderle tutte quante Vediamo quanti lingotti riusciamo a fare In effetti non apro questi collettori da un bel po' di tempo Perché ormai di neutroni ne avevo veramente tantissimi Per tutti quelli tra l'altro che mi chiedono di craftare La stella moltiplicatore di oggetti Allora ragazzi Quella è veramente veramente impossibile da craftare Perché se non mi ricordo male Com'è che si chiamava? Star? Questa? La Klein Omega Star? No 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 È questa The Final Star La stella finale E questa qua purtroppo ragazzi Si crafta con una miriade di energia Cioè l'energia che richiede per trovare Per prendere questa stella Viene classificata con P Io non so neanche cosa sia P come unità di misura Servono 649 P di energia Io invece come potete ben vedere C'ho 37 G Quindi 37 miliardi P non ho idea neanche di che cosa sia Però questa è la stella È l'oggetto più potente Di tutto quanto il mondo di Minecraft Perché a quanto pare Ti permette di moltiplicare Qualsiasi tipo d'oggetto Per cui Io potrei moltiplicare con facilità I lingotti dell'infinito E averne 100 milioni per esempio Il fatto è che costa tantissimo E quindi non me la posso permettere Probabilmente non me la potrò permettere mai Il crafting di questa stella Tra l'altro Allora servono 8 di questi Fiori del potere Per craftarne 1 Servono tutti questi oggetti Come vedete Questi qua costano un triliardo Ogni singolo Final Relay Costa un triliardo Questi costano 30 P Che non so neanche cosa siano i P Ragazzi cioè sono sincero Poi per craftare un Final Relay Ti servono tutti questi Per craftare una shard di Final Star Ti servono tutte queste stelle Omega 422 triliardi ogni stella Per craftare ogni stella Ti servono 105 triliardi Poi 26 triliardi 6 triliardi 6 triliardi 1 triliardo 412 miliardi E vi ricordo che io al momento Ho soltanto 37 miliardi Quindi soltanto per un oggetto Mi servono 412 miliardi per 4 Cioè capite che è praticamente impossibile Non si può fare Mi dispiace Per tutti quelli che avevano il sogno di vederlo Ci metterei probabilmente anche più di un anno A riuscire a fare quella stella Quindi No ma che dico un anno Forse 3 anni 4 anni Ci vuole veramente troppo troppo tempo È impossibile Non la crafterò mai Non voglio farvi una promessa Che non posso mantenere Quindi iniziamo intanto A prendere tantissimi nugget di Neutronio Perfetto Cerchiamo di collezionarli tutti Anche perché ci serviranno Ci serviranno le pile di Neutronio Per fare le nostre stelline Ok così Perfetto Wow Quanto Neutronio siamo riusciti ad accumulare nel tempo Mi sembra ieri che ho aggiunto questa mod E pensavo Oh mio dio Non ce la farò mai Ci vorranno Ci vorranno gli anni Ci vorrà troppo troppo tempo A ottenere tutto quanto Invece a quanto pare ragazzi Ce l'abbiamo fatta Dopo 4 mesi Penso siano passati 4 o 5 mesi Che è un bel po' eh Se ci pensate Per fare un'armatura 4 mesi ragazzi È tanto Ce ne teniamo un pochettino Di questi di Neutronio Perché potrebbero servire appunto Anche alcuni di questi nuggets mi servono Mentre tutti gli altri invece Trasformiamoli direttamente in lingotti Anche se comunque ne ho tantissimi Quindi non è che mi servano più di tanto Ok direi che così va bene Altri 22 lingotti Ora cosa dobbiamo fare Per chi non seguisse la modcraft da tanto tempo Magari c'è qualcuno che è nuovo E quindi non ha mai visto i crafting dell'infinito Vi faccio vedere cosa dobbiamo fare Dobbiamo prendere tutte queste singolarità Poi dobbiamo prendere Allora Catalyst Quindi ci servono I diamond lattice Ok E il matrix Io per fortuna C'ho tantissima energia Quindi li posso semplicemente Prendere da qua Diamond Lattice Ok Il lattice di diamante Ne prendiamo 64 Non costa molto Me lo posso permettere E poi prendiamo anche il matrix Ci servirà sia un blocco Che tantissimi Tantissimi lingotti Questi già costano un pochettino Ma come vedete La mia energia Sta scendendo di poco Perché io ne ho tantissimo 37 miliardi È tanto 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 Ok Ne prendiamo mezzo stack Direi che dovrebbe bastare così Dopodiché io In uno di questi Non mi ricordo dove Forse qua Dovrei avere tutti quanti i materiali Vediamo Eccoli qua Perfetto Ok Quindi adesso abbiamo tutti i materiali Per craftare l'infinity catalyst No Mi mancano i lingotti di neutronio Prendiamoli Tanto ne ho tanti Ok Allora La prima stellina È sicuramente Craftata Bene Craftiamone ancora Ok E ovviamente ancora Prendiamola Fantastico Quante ne posso craftare? Penso tipo 6 o 7 Sì Credo di essere arrivato al limite Forse un'altra Ne posso fare un'altra ancora Vediamo Sì Un'altra ancora Tra l'altro Le singolarità di smeraldo Ok Mi mancano Oro E silver Vabbè Non costano molto queste Ma non sarò di certo qui a farmarle Perché Comunque credo che queste qua Siano già abbastanza 7 Infinity catalyst Dovrebbero bastare Come vedete Ne ho tantissimi di smeraldo Perché c'ho i generatori di smeraldo Quelli automatici E quelli Anche se sono i più costosi Da ottenere Diciamo che Sono abbastanza semplici anche Ok Abbiamo la bellezza di 24 Infinity catalyst Dovrebbero bastare Dovrebbero bastare E forse anche avanzare Fantastico Rimettiamo tutto quanto a posto Riprendiamo lo zainetto Con tutti i materiali Mettiamo tutto qua Ok Mamma mia ragazzi Non sto più nella pelle Cioè vi rendete conto Che sto per completare L'armatura dell'infinito Ok Ora prendiamo questo Ci serve il blocco Ci serve il neutronio Ci servono gli infinity catalyst Ci serve dell'altro matrix Dobbiamo prendere degli altri Lingotti di matrix No Natrux Di matrix Ok Facciamone Prendiamo uno stack intero Ma si Non vado a spese E Dobbiamo andare a dormire Tra l'altro Che strano il mio mondo Adesso pieno di neve Da quando sono uscito Dalla Twilight forest E' totalmente cambiata La stagione E quindi siamo passati Dall'autunno All'inverno inoltrato Mamma mia ragazzi Manca veramente Veramente poco Questo è l'episodio Decisivo Se non avete ancora messo Mi piace Fatelo Immediatamente Perché oggi Completeremo L'armatura Dell'infinito Mamma mia non vedo l'ora Ok Allora Cosa devo fare Dobbiamo craftare Degli altri lingotti Dell'infinito Quindi infinity catalyst Ce ne servono altri due Se non sbaglio Uno Ok Ne posso fare un altro Sì lo posso fare Due Siamo a 24 Lingotti Dell'infinito Non ho mai avuto Così tanti lingotti In tutta la mia vita Ho un inventario pieno E questo qua E il crafting finale Dell'armatura Dell'infinito Infinity breastplate Questa armatura Ci permetterà Di volare Anche senza utilizzare Le ali E ci renderà Letteralmente Immortali Un per cento Di toughness Più dodici di armatura La crafto? Siete pronti? Scrivete tutti quanti Adesso un commento Sì craftala Tre Due Uno L'ho craftata Non ci posso credere La voglio indossare La voglio indossare A tutti i costi Non so più nella pelle ragazzi Togliamo L'armatura di spectrite Che ho indosso ormai Da praticamente Trentamila episodi Sono pronto Siete pronti anche voi A vedere tutta quanta L'armatura Completa Questo è un momento Epocale ragazzi Pensare che ho craftato Tutta questa roba In survival Mi rende super orgoglioso Prima di tutto Ci tengo a dire Due paroline La modcraft È una delle mie serie preferite Mi sono divertito Come non mai In questa avventura Non è ancora finita Attenzione Non è finita Non vi preoccupate So che alcuni di voi Stanno probabilmente piangendo E si stanno strappando i capelli Non è ancora finita Però volevo semplicemente dirvi Che è stata una delle mie serie preferite In assoluto Un'avventura spaziale Epocale Ci siamo divertiti insieme Con delle cose veramente assurde E finalmente Abbiamo completato Un altro grande passo L'armatura più potente Di minecraft Guardate come mi brillano gli occhi Mio dio Oh mio dio Sono tutto radioattivo Non ci posso credere È Veramente Stupenda E tecnicamente Io adesso sono Immortale Niente E nessuno Potrà uccidermi Neanche la spada Dell'infinito Può uccidermi Porca miseria Se sono forte Bellissimo Bellissimo Beh ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Nel prossimo video Andremo a testare Tutti i superpoteri Dell'armatura Quindi lasciate un mi piace Immediatamente E soprattutto Lasciate anche un commento Se non vi siete ancora iscritti Al mio canale Cosa state aspettando Chi vi porta dei contenuti Così epici Nessuno Dal vostro canale è tutto E noi ci vediamo domani Con un prossimo video Ciao Ciao